Te ne hai Juventus in aria? Dai! Matri, Matri, Matri! Riccardo hai strizza? Un pochettino, la Juventus è molto... Un po' di strizza, un po' di strizza. Comunque è entrato Matri, eh. Pepe, Pepe, traversone, Pepe! Goal! 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 Questo è il gran gol! È gol, è gol! Signori, signori, Borriello a casa! Borriello a casa! Alex, vai Alex! Borriello a casa, dai! Signori, dai! Commenta, Alex, commenta! Ho il capogiri! Lo scherziamo, dai! Ho il capogiri! Gran gol! Questo è un gran gol! Come si fa lasciare in panchina Matri? Come si fa? È un po' il tempo snob, allora. Gran gol! Gran gol! Pepe, matri! Ha girato così? Lo faccio? Gran gol! Ma è così? Lo fa? Dove è? Pepe che recupera? Grande! Gran gol! Grande Matri! Ma conferma!